Ieri l'arrivo ad Ortona di 161 migranti a bordo della nave umanitaria di emergency, ma questa mattina non sono già più nella città. Ce lo racconta Luca Pompei in diretta, che ha seguito anche per le nostre pagine social tutta la giornata di ieri e anche quella di questa mattina. Luca, allora quali sono le ultime novità? Sì Carmine, già questa mattina, dalle 5 di questa mattina, la Palasport di Villa Caldari a Ortona era completamente vuoto. Dal tarto pomeriggio di ieri fino a tutta la notte, i 161 migranti che nella palazzetta hanno potuto comunque riposarsi grazie alle brande messe a disposizione dell'amministrazione comunale e rifocillarsi. Hanno pian piano lasciato la struttura a bordo delle navette dei vari centri d'accoglienza straordinaria provenienti da Abruzzo, Marche e Molise. Ricordiamo che la metà dei 161 migranti salvati dalla life support di emergency e fatti sbarcare ieri al porto di Ortona, la metà sono stati dislocati nei CAS abruzzesi in tutte e quattro le province, e l'altra metà tra i CAS di Marche e Molise. Ricordiamo che tra di loro sono moltissimi i minori, molti dei quali accompagnati dai genitori, ma ci sono purtroppo anche tanti minori non accompagnati, alcuni tra questi, Carmine, tra i 6 e gli 8 anni, come ci spiegava ieri Roberto Maccarone, il responsabile sanitario di emergency. Ad ogni modo tutte le operazioni sono andate avanti in totale tranquillità grazie al coordinamento della Prefettura di Chieti, al contributo importante dell'amministrazione comunale di Ortona che ha messo a disposizione questa struttura, ma anche le forze dell'ordine, polizia, croce rossa in primis, ma anche vigili del fuoco e guardia di finanza. Ortona dunque supera anche questo esame, era il secondo sbarco in Abruzzo di migranti provenienti dal Mediterraneo e quindi si rende già disponibile per altre eventualità in futuro. A te Carmine.